Io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro Paraclito, perché rimanga con voi per sempre. Gesù è il primo chiamato vicino per essere il Consolatore. «Venite a me, voi tutte chi siete affaticati e oppressi», diceva, «e io vi conselerò». La sua vita e le sue azioni sono concretamente il volto di Dio che si è fatto vicino, tanto da scendere al fondo della nostra condizione umana, nell'abisso della morte. Vinta la morte, Gesù indica un altro Paraclito, una presenza per sempre e per tutti i discepoli, lo Spirito che, da Consolatore, fa risuonare nel cuore le parole che Gesù diceva ai Suoi quando era con essi. Voi avrete tribolazioni nel mondo, ma abbiate fiducia, io ho vinto il mondo. Egli è difensore nello scoramento e nelle difficoltà e rende presente Gesù nei segni che ci ha lasciato e ci dà accesso all'intimità con Dio. Certo, essendo il chiamato vicino, va chiamato, invocato e lasciato agire e parlare nella libertà che ha aperto strade nuove ai discepoli di tutti i tempi. Grazie.